9.825 chilometri per raggiungere un popolo e incoraggiarlo a guardare al futuro con speranza e fiducia, nonostante il sangue versato in decenni di conflitto armato. Si tratta di un viaggio un po' speciale, ha precisato Papa Francesco nel saluto ai giornalisti presenti sul volo a Z4000 per aiutare la Colombia ad andare avanti nel suo cammino di pace. Parole di vicinanza sono state espresse anche per il Venezuela sorvolato durante il viaggio, per il quale ha chiesto di pregare affinché possa trovare la strada del dialogo e della stabilità. Dopo oltre 12 ore il pontificio è atterrato nella base aerea Catam dell'aeroporto di Bogotà, accolto dal presidente della Repubblica Colombiana Juan Manuel Santos Calderón. La straordinaria ricchezza di questo paese, che prende il nome da Cristoforo Colombo, scopritore delle Americhe, è subito esplosa in un tripudio di colori e danze al ritmo della cumbia. Un entusiasmo che si è rinnovato lungo l'itinerario fino all'Annunziatura, circa 15 chilometri che il pontificio ha percorso in Papa Mobile, ad attenderlo i rappresentanti dell'Istituto Distrettuale per la Protezione dell'Infanzia e della Gioventù e quelli delle Famiglie della Misericordia. Papa Francesco ha ringraziato tutti per l'accoglienza calorosa, elogiando il cammino intrapreso per la pace, un passo che ha un carattere eroico. Non perdete mai la gioia, insistito, e non perdete mai la speranza. Grazie a tutti.